Marco Schindler, inutile nasconderlo, molti hanno scritto, hanno detto che potrebbe essere stata la sua ultima panchina alla guida delle ferelle, l'abbraccio e il saluto con il pubblico lascia presagire qualcosa? Sicuramente non è un momento facile per me, dal punto di vista personale per la società, stasera ho una riunione con la società, ma diciamo che è difficile che io possa rimanere. C'è stata poca riconoscenza nei suoi confronti dopo i due scudetti, come si spiega questa situazione? Sono cose che lascio parlare alla società che io non voglio entrare in merito. Una motivazione in merito? Questa è una motivazione, è giusto che sia così. Grazie a tutti. Cristiano, ovviamente lei ha appena detto che sto facendo una riunione, quindi nulla più è speciale al momento. Mi convenzo oggi l'abbraccio, l'affetto per la diffuseria, anche per le calcettiste. Vuol dire che in tre anni qualcosa ho lasciato a te. Oltre che ai due scudetti della Supercoppa italiana, forse ho lasciato una parte di me qua, e il mio modo di fare, il mio modo di essere probabilmente ha portato sui frutti, perché se questa è la risposta... Ci sono altre logiche che vengono nel calcio a cinque? Nello sport, soprattutto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Marco Schindler ha detto che c'è in programma un incontro questa sera, è difficile che lui possa rimanere sulla panchina della ternana femminile. Ci vuol dire qualcosa a proposito? Marco Schindler ha appena dato le sue dimissioni oggi e finisce una bellissima carriera con la nostra società, è una persona che rispettiamo, che ci ha fatto vincere due scudetti nella Supercoppa, un grande professionista che ha deciso di lasciare la guida della nostra squadra. È una scelta dell'allenatore oppure diciamo che anche la società ha preferito guardarsi intorno? È una scelta di entrambi le persone, abbiamo una persona intelligente, con il nostro DS abbiamo parlato, siamo al nostro mister e di comune accordo abbiamo trovato. Il nuovo allenatore porterà anche dei rinforzi, è un po' anche questo il motivo? Ci sono già, il nuovo rinforzo è già arrivato, arriveranno altre due, però prossimamente su questi schemi, grazie ancora e forza da ternana. L'ultima cosa però, l'estate erano state dette per le parole, no? Comunque giustamente veniva data riconoscenza un tecnico che ha portato la ternana femminile nella storia del calcio italiano femminile. Quando è nata, c'è stata una frattura tra le parti? Non c'è stata nessuna frattura, non vedo, purtroppo per voi non posso dire altro perché non c'è frattura, è una giusta, tra professionisti abbiamo parlato, abbiamo trovato un punto d'accordo con un grande produzione e comunque ha fatto la storia data.